Il prologo è scattato questo sabato da Jedda con il compito di stillare l'ordine di partenza della prima tappa che prenderà ufficialmente il via domenica 2 gennaio. Sarà allora che il rombo dei motori risveglierà l'interesse degli appassionati sulla 44esima edizione del Rally Dakar che si svolgerà per la terza volta interamente in Arabia Saudita. Una decisione presa in virtù della pandemia da Covid-19 che ha imposto pesanti restrizioni sull'itinerario di viaggio. 1.065 partecipanti alla storica competizione tra piloti e copiloti per un totale di 578 veicoli. Ben 63 le nazioni rappresentate con un netto predominio francese. Auto, moto, camion, SSV e quota si sfideranno in 12 tappe partendo proprio da Jedda con arrivo previsto nella stessa città il prossimo 14 gennaio. Riad è stata scelta invece come sede del primo ed unico giorno di riposo, ben 5 le frazioni ad Anello. Saranno 4.258 i chilometri di speciale complessivi, 8.375 in totale, compresi trasferimenti. Presenti all'appuntamento mondiale anche tre piloti bresciani. Il lumezzanese Gianpaolo Cavagna prenderà parte alla Dakar Classic aperta ai mezzi che parteciparono alla vera Dakar, ovvero quella in terra africana. L'assistenza alla sua Nissan Patrol sarà prestata da chi ha allestito la vettura, ovvero Tiziano Coccoli, della XP Motor di Bovegno. Chi fa ritorno alla Dakar è invece Alberto Bertoldi di Gavardo, anch'essi in una nuova veste da navigatore su un SSV Polaris Razor Turbo, con erà con Pietro Cinotto, figlio del campione di rally, anni 80, Michele. Terzo ed ultimo bresciano alla Dakar e infine Tiziano internò alla sua seconda sfida all'evento, a bordo di uno Squarna 450 Rally, la prima come vero e proprio pilota, dopo l'edizione 2021 vissuta da reporter.